Ciao, sono Luca. Sono Daria. E sono qui per dirvi che anche quest'anno la Compagnia delle More rinfrescherà le vostre serate con la seconda edizione di TEN. Teatro Estivo Nonantola, un vero e proprio teatro all'aperto. Vi aspettiamo dal 6 al 14 luglio presso il Giardino Perla Verde di Nonantola, con spettacoli per adulti e bambini. Di magia, prosa, musical e special guest imperdibili come Paolo Migone e il Tre Jolie. Inoltre, tutti i giorni di spettacolo a partire dalle 19, musica dal vivo e aperitivo con lo stand gastronomico di Osteria del Pozzo. Per prenotare, scarica l'app Live Ticket o vai su live-ticket.it, cerca Compagnia delle More, inserisci il nome dello spettacolo che desideri vedere e clicca prenota. Puoi anche scrivere a compagnia-dele-more-gmail.com o chiamare il 370-3627-232. Meglio di così? Che cosa aspetti? Affrettati, i posti sono limitati. Ten, teatro estivo Nonantola. Lasciatevi emozionare.